che cosa hai lì? non dirmelo! è un burrito fatto in casa! l'hai fatto per gli astronauti! il razzo si è ancorato con successo alla ssi! preparati! per aprire la porta è necessario fare clic sul pulsante verde in 3 2 1 tasto verde arnold! verde! dubito che qualcuno degli astronauti si precipiterà in tuo aiuto dopo averli lasciati senza cibo! hai abbastanza aria per otto ore! in qualche modo durante questo periodo devi arrivare alla ssi da solo! scuotere il tuo corpo non produrrà alcun risultato! anche se corri come sonic il tuo corpo rimarrà in un solo posto! quindi ecco alcune opzioni reali per muoversi nello spazio! la prima opzione è usare l'aria proveniente dalla bombola di ossigeno! l'aria si muove attraverso i suoi tubi ad una velocità di 50 chilometri al secondo! questo tipo di energia in soli 60 secondi potrebbe trasportarti fino a 3 chilometri ma ciò ridurrà in modo significativo la fornitura d'aria! passiamo quindi alla seconda opzione! il burrito! lo hai avvolto in carta stagnola ed è un riflettore eccellente! se fai una vela con la lamina le particelle di luce che si riflettono su di essa trasmetteranno il loro slancio alla lamina e quindi ti spingeranno attraverso lo spazio! non hai sentito nulla di quello che ho detto su una vela? figlio di uno schmuck! oh potremmo usare anche quello! i gas escono dal corpo umano ad una velocità di 3 metri al secondo e possono riempire un intero pallone in un giorno! devi solo pensare a un modo per farli uscire! arnold cosa stai facendo? quanti burrito sei mangiato? ne è rimasto solo un po' allungare e allungare e ricordi lo show amore morte e robot dovrai strapparti la mano ok ho solo il tuo dito dai ti restano solo 3 metri stacca una parte della tuta e lanciala nella direzione opposta questo ti spingerà in avanti noi non scegliamo il nostro destino lui sceglie noi attento armi! wow sembra che qualcuno abbia versato scorie radioattive qui! ehi arnold ora puoi essere un supereroe! sapevi che wolverine della marvel si sarebbe originariamente chiamato badger man quindi in questo caso sei bill skunk peckerman! geniale! questa è la prima volta nella storia in cui un supereroe ha tre superpoteri ma non sei l'unico ad avere i superpoteri armi ad esempio un maestro di spada giapponese isao machi è in grado di tagliare un proiettile che viaggia a una velocità di 320 chilometri all'ora slavisha fakic dalla serbia può letteralmente gestire 20.000 volt di elettricità e può anche cucinare il cibo facendo scorrere corrente elettrica attraverso il suo corpo wim hof dei paesi bassi è grave di resistere per ore a temperature sotto lo zero e ha persino scalato l'everest in mutande e tu arnold? oh congratulazioni! vedo che hai acquisito la capacità di piantare chiodi con il tuo cranio costruire dighe e persino allevare i superpulci sul tuo stesso corpo ma seriamente se pensi che i tuoi superpoteri siano ridicoli dai un'occhiata a dog wilder della DC comics il cui potere è saldare i cani ai suoi nemici e lo zeitgust degli x-men dopo aver bevuto tutta la notte ha scoperto di avere la capacità di vomitare acido sapevi che il patrimonio netto di batman è di 98 miliardi di dollari sembra che essere un supereroe possa essere un affare molto redditizio e la prima copia del fumetto di superman è stata venduta all'asta per 3 milioni e mezzo di dollari e a giudicare dal numero di richieste su google spider-man è ora più popolare del presidente degli stati uniti so che è molto bello ma comunque il lavoro principale di un supereroe non è crogiolarsi nella gloria ma combattere per sempre ehi ragazzi il mondo è in pericolo il mondo è condannato senza di te va bene non dire che non ti avevo avvertito e questo è il mio pesce preferito lo chiamo toby oggi scambierò le loro menti tutti pronti toby eccoci qui vediamo com'è andata arnold se sei tu gorgoglia tre volte adesso agita la tua pinga ok gira intorno fai un back flip sì ora vedo che sei decisamente tu toby cattivo ragazzo cattivo metti l'acquario bar whoops arnold trattieni il respiro morirà i seinali i succhi gastrici abbiamo sette secondi per pompare tutti gli acidi dallo stomaco mentre ti muovi attraverso l'esofago ti sei appena oscurato proprio come un vero piragna quando sono in una secca possono facilmente sventrare un'intera mucca in soli dieci minuti ma nel momento in cui il piragna è solo svanisce nel minimo fruscio i pesci hanno bisogno di molta acqua dolce pertanto sbattiamo tutti i quattro litri di stomaco con lui ecco fai uno spuntino la sorpresa preferita di toby ma stai attento con i denti un morso di piragna è più forte di qualsiasi altra creatura sulla terra compresi i dinosauri l'ultima cosa che vorresti in questo momento è un buco nello stomaco in realtà ho un piano toby apri la bocca e prova a stingere arnold fuori arnold vai a nuotare fino all'uscita forza ragazzi fatelo insieme arnold sembra che tu abbia confuso l'entrata con l'uscita disattiva google maps e inizia la scansione toby continua a cercare di spingerlo fuori non sarai in grado di uscire da lì in secco ora dove ho messo la mia borsa per clistere da 5 litri oh eccolo va meglio ora devi solo nuotare per circa 4 metri caspita le cose che ti sei messo in bocca non vedevo un tamagotchi dagli anni 90 l'acqua è quasi finita vai verso la luce ho pianificato un esperimento leggermente diverso ma anche questo si è rivelato buono vero arnold per questo devi pagare la bolletta elettrica in tempo e ti ho già vertito un milione di volte che la pubblicità è fatta solo per succhiarti ogni centesimo quindi vai avanti adesso stai seduto al buio te lo meriti oh cavolo fa male solo guardarti ok ho un'idea vedi siamo circondati da trilioni di batteri che generano energia inutile dalla materia organica di cui si nutrono quindi quello che sto pensando è costruiamo una centrale elettrica batterica che usi la tua cacca come carburante non abbastanza per tutti i tuoi gadget vero ma cosa ti aspettavi i batteri sono davvero davvero minuscoli lo so ingrandiamoli un batterio delle dimensioni di un gatto ci darà 46 mila volte più energia e possiamo ottenere ancora più batteri e più carburante l'america produce 128 miliardi di litri di liquami al giorno questo potrebbe fornire elettricità un'intera città e risolveremo anche il problema della depurazione dell'acqua i giganteschi alobatteri che si nutrono di sale possono fornire energia gratuita dall'oceano e dissalare l'acqua per le regioni desertiche ogni giorno vengono gettate via 3 milioni e mezzo di tonnellate di plastica l'ingigantita idionella saccaiensis puoi riciclare questa plastica in energia allora puoi aprire una rete di ricarica per veicoli elettrici a differenza dell'energia dei combustibili che ogni anno emette nell'atmosfera 37,5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica l'energia batterica è assolutamente pura ed emette solo ossigeno sembra un'ottima idea per una startup arnold hai risolto i problemi ambientali dell'umanità e guadagnato trilioni di dollari nel business dell'energia per il suo avvio arnold 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 hai davvero iniziato a vivere uno stile di vita sano vestiti arni perché con un corpo come il tuo potremmo perdere tutto il nostro pubblico femminile cerchi somiglianze tra te schwarzenegger ne hai almeno uno e questo è il tuo nome dovrai iniziare ad allenarti se vuoi avere un corpo come il suo e rinuncia anche alla tua solita dieta o forse hai qualche altra opzione arnold sei serio steroidi prima di tutto è illegale e in secondo luogo e lo ripeto è illegale i muscoli costituiti da composti proteici vengono costruiti a causa di microstrappi che vengono ripristinati in pochi giorni e rendono il muscolo più forte e più grande gli steroidi sono sostanze che una volta all'interno del corpo vengono convertite in ormoni che raddoppiano il processo di recupero aumentando allo stesso tempo drasticamente il volume muscolare dopo aver preso così tanto testosterone iniziano i processi irreversibili nel corpo vedrai un aumento dell'acne una diminuzione delle dimensioni dei testicoli un'aggressività ingiustificata anche se saprò cosa l'ha causato e perché non preoccuparti arnold almeno avrai qualcos'altro di grosso sembra che questo trattamento da aspirante sia fatto apposta per le persone pigre come te in effetti usare gli steroidi significa che non devi nemmeno fare esercizio per aumentare di peso naturalmente consumare così tanto testosterone aumenterà la tua libido avrai bisogno di più attenzione fisica quasi immediatamente ehi arnold dai è troppo quindi hai deciso di caricare le tue foto su una app di appuntamenti congratulazioni hai una corrispondenza a giudicare dalle sue foto avete molto in comune come farai a sorprenderla al tuo primo appuntamento grande arnold voi due siete decisamente fatti l'uno per l'altro buongiorno arnold vedo che non ti sei svegliato da solo che cosa hai paura arnold dimenticavo di dirtelo il testosterone colpisce le donne a suo modo speciale si fanno la barba come gli uomini e la loro voce diventa più profonda e rubida ma non precipitarti così è pericoloso perché il tuo cuore non è più buono come una volta sembra che qualcuno si sia divertito ieri sera e qualcosa mi dice che il tuo cervello è probabilmente incasinato tanto quanto questa stanza davvero non ricordi proprio niente arnold potrebbe davvero essere ieri sera sei finalmente diventato un vero uomo congratulazioni arnold questa è la tua prima intossicazione da alcol e queste sono le prime spiacevoli conseguenze di una nuova conoscenza arnold che ne dici di un brindisi al tuo nuovo amico ah beh capisco ovviamente se devi devi oh arnold davvero volevi fare un promemoria di questo evento bene guardale in questo modo almeno avrai qualcosa da raccontare i tuoi amici più tardi come puoi vedere le conseguenze dell'intossicazione da alcol non danneggiano solo la tua salute danneggiano anche il tuo conto in banca ieri sera sei stato super generoso arnold sei stato il re della festa ora dov'è il tuo dente ti suona un campanello niente no arnold non lo sapevi ma bere troppo porta un'aggressività innecessaria e hai sicuramente pagato un prezzo per questo oh hai trovato una soluzione è ora di prendere l'aspirina aspetta hai dimenticato di rifornire il tuo kit di pronto soccorso ma davvero arnold tutti questi problemi sono solo nella tua testa l'acqua minerale è una cosa miracolosa sei disidratato hai solo bisogno di reintegrare l'acqua mancante dal tuo corpo cosa c'è che non va con l'idromassaggio capisco perfettamente se vuoi smettere di bere dopo la scorsa notte ma non l'acqua non pensavi che sarebbe stato così facile sfuggire ai postumi della sbornia vero qualcuno chiami spielberg abbiamo una trama per un nuovo squalo che c'è arnold stai chiamando un'ambulanza ah hai deciso di ricaricare le forze con una buonissima pizza ma ti sei dimenticato di una cosa l'alito alcolico questi sono i prodotti di decadimento dell'etanolo che compaiono nel corpo dopo che il fegato ha ripreso la sua elaborazione uno di questi l'acido acetico ha un odore particolarmente sgradevole ehi arnold sei sicuro di voler ancora dormire dopo aver mangiato purtroppo puoi dimenticare il sonno le funzioni cerebellari sono compromesse dopo l'assunzione di alcol non appena chiudi gli occhi il cervelletto cessa di avere dati sufficienti per l'orientamento nello spazio e inizia a trasmettere dati rotti alla corteccia cerebrale saluta le vertigini da letto povero arnold è un peccato solo guardarti lascia che ti dia un consiglio in questo momento una tazza di te caldo ti salverà avvolgiti in una coperta calda e addormentati così profondamente che nessun principe potrà svegliarti con il suo bacio arnold te l'avevo detto che sarebbe stato d'aiuto credo che la festa della birra tarda notte è stata un grande successo ma non dimenticare al massimo hai una conferenza di youtuber con un cui inferiore a 60 e se sei in ritardo la tua carriera è fritta non c'è tempo per il bagno devi trattenerla amico la vescica contiene comodamente 150 200 millilitri di liquido ma dopo 400 500 millilitri sentirai una certa pressione devi aver bevuto molto sembra che il capo sia di cattivo umore e di sicuro non permetterà nessuno di fare pause per il bagno il liquido viene assorbito nei reni quindi scende attraverso l'uretra nella vescica probabilmente ti senti un po stressato arnold perché ora devi trattenere la pipì con i muscoli ti consiglio di non ridere arnold o stannutire o tossire qualsiasi cosa del genere indebolisce i muscoli e potresti iniziare a fartela addosso urrà ricreazione ti sei salvato la persona media fa tintinnare 6 8 volte al giorno sfortunello arni nei tempi antichi le regole della decenza consentivano alle persone di poterla fare in pubblico e la divisione dei servizi igienici uomini e donne avvenne solo nel 1792 ok la pausa è finita amico ora ti tocca fare la tua presentazione se la trattieni a lungo le pareti della vescica possono allungarsi quindi puoi trattenere ancora più pipì ma questo può essere pericoloso i batteri e gli acidi di urine possono risalire ai reni causando cistite e pielonefrite sembra arnold che tutti approvino la tua insoddisfazione per la politica aziendale dai arnold so che puoi tenerla un po di più solo 50 conversazioni in più e poi sei libero bene questo è tutto è ora di andare a casa e arnold ti consiglio di non fare movimenti improvvisi se la tua vescica è così piena potrebbe scoppiare sì sei quasi a casa ora dobbiamo solo superare l'ora di punta del mattino ciao arnold stai comprando un biglietto della lotteria ehi aspetta cos'è quell'odore non riesce a sentirlo che schifo la possibilità di essere attaccati da una puzzola puzzolente circa dieci volte superiore a quella di vincere il primo premio della lotteria anni vecchio amico mio sei fortunato i medici sono riusciti a migliorare il tuo senso dell'olfatto trapiantandoti il naso di un cane certo prima devi abituarti ma ehi ora non hai nemmeno bisogno di usare un filtro in snapchat l'olfatto di un cane è cento o addirittura mille volte migliore di quello di un essere umano il naso di un cagnolino può sentire un odore a distanza di un chilometro dalla sua fonte con il naso di un cane puoi persino determinare lo stato fisiologico ed emotivo di una persona abbastanza bello tuttavia è meglio non scherzare con i prodotti per la pulizia gli odori di aceto ammoniaca e cloro sono particolarmente sgradevoli per il naso di un cane penso che faresti meglio a scappare abbastanza bello no i cani sono macrosomi nel senso che in realtà vivono in un mondo di odori per loro il loro senso dell'olfatto e come la visione lo è per noi non è poi così male avere l'olfatto di un cane vero arni un millilitro di acqua contiene 3,35 volte 10 alla ventiduesima di molecole l'olfatto di un cane può rilevare tra tutte quelle molecole una singola molecola scelta di una sostanza quindi con un fiuto del genere la pizza più buona la trovi sempre oppure fingi di essere un sensitivo e trova persone per soldi o anche trovarti un lavoro come guardia del corpo del re ma aspetta invece stai comprando di nuovo un biglietto della lotteria aspetta ascolta senti qualcosa che peccato un bel giorno che non ha causato alcun disastro è stato rinchiuso in un ipermercato fino alla fine dei suoi giorni puoi chiedere perché e la risposta è solo perché volevo semplicemente rinchiuderlo in un ipermercato qui puoi mangiare caramelle e barrette di cioccolato tutto il giorno e puoi andare in giro nel negozio in un carrello a vostra disposizione sono beni per lo svago lo sport i vestiti e persino le medicine in media in un ipermercato ci sono 120 mila prodotti diversi che ti offriranno 50 anni di vita spensierata ma sfortunatamente senza elettricità gran parte di questi beni si rovinerà il giorno successivo a temperatura ambiente l'intera tonnellata di latte presente nel negozio sparirà in sole 18 ore pollo maiale e manzo freschi andranno tutti a male in un giorno torte e pasticcini dureranno un po di più forse 36 ore se sei fortunato potresti provare a preparare potresti salare il pesce e mettere il pane sotto vuoto quindi la loro durata sarà prolungata di anni ma ehi cogli l'attimo giusto arnold dopo una settimana anche frutta e verdura andranno a male e dovrai passare i cereali ma anche solo la loro preparazione esaurirà la fornitura limitata di acqua che potresti bere per almeno 10 anni potresti provare ad estenderlo filtrandolo attraverso il carbone dal dipartimento del giardinaggio e poi pulendolo con l'argento ok quindi d'ora e poi il tuo solo pasto sarà cibo in scatola lo stufato di manzo può durare quasi indefinitivamente se l'imballaggio non è danneggiato e i cetrioli e i pomodori in salamoglia possono essere un'ulteriore fonte d'acqua quindi le tre tonnellate di prodotti in scatola che si trovano nel negozio ti dureranno per otto anni e quindi l'ultima fonte di cibo rimasta sarà molte cose possono essere usate per altri scopi ad esempio puoi pulirti il sederino con qualsiasi tipo di carta devi solo accartocciarlo a fondo e beh usarlo proprio come hanno fatto le nostre bisnonne e quando finisci i soldi puoi sempre usare la carta di credito hai mangiato un burrito che conteneva le uova di alcuni vermi molto intelligenti arnold guarda qui hanno costruito un'intera metropoli dentro di te hanno persino costruito uno zoo diamo un'occhiata allo zoo oggi è lunedì quindi c'è uno sconto del 50 per cento mio dio questo è uno zoo di virus e batteri patogeni ammiro i tuoi intrusi influenza spagnola peste ebola tubercolosi influenza suina e aviaria tifo vaiolo e un mucchio di altri patogeni rari tutti in un unico posto guarda c'è anche il mio preferito il boronavirus poco studiato conosciuto anche come malattia del cavallo triste colpisce principalmente cavalli pecore mucche conigli e altri animali arnold non metterei le dita nella gabbia se fossi in te si sospetta che l'infezione provochi la schizofrenia arnold purtroppo ti fa male lo stomaco a causa dei parassiti guarda stanno costruendo un'autostrada nel tuo intestino un parco acquatico nella tua vescica e stanno anche cercando di ottenere minerali dal tuo fegato se costruiscono un data center nella tua testa molto probabilmente darai un calcio al secchio perché la tua testa è così piccola devi capire come espellerli dal tuo corpo prima è meglio è se apri tutte le celle di questo zoo di pandora molto probabilmente ti aiuterà a espellere i vermi andiamo arnold vai avanti è meglio tossire per un paio di giorni di ebola che vivere con questi vermi dentro di te congratulazioni arnold per l'eroico esilio dei parassiti ecco una medaglia per il tuo coraggio